Il premier Matteo Renzi, a causa del terremoto che ha nuovamente colpito e devastato il centro Italia, ha annullato le tappe referendarie in Veneto previste per oggi, a Vicenza e a Padova, dove questa sera avrebbe dovuto incontrare la cittadinanza per spiegare le ragioni del sì alla riforma costituzionale. Renzi però domani mattina sarà in città all'università e insieme al rettore Rosario Rizzuto incontreranno gli scienziati provenienti da tutto il mondo, richiamati a svolgere le proprie ricerche nell'Ateneo Patavino. Il sindaco Bitonci, che domani sarà anche lui presente al BO, nelle scorse ore aveva definito uno sgarbo istituzionale il fatto che il premier non avesse avvisato il comune della visita. Io l'avrei fatto anche se fosse stato il suo posto e qui a Padova ci fosse stata l'amministrazione precedente, quindi uno sgarbo. Renzi presto recupererà l'appuntamento in fiera a Padova, conferma il PD cittadino che non accetta i toni polemici del sindaco. Sono lacrime di coccodrillo di una persona che sa di aver attaccato, offeso, vilipeso il presidente del consiglio giorno dopo giorno per due anni e adesso fa la bella addormentata nel bosco. Renzi vuole bene a Padova nei fatti. Il nostro governo ha stanziato, aveva immaginato milioni di euro, ad esempio per il trasporto pubblico locale che Bitonci ha cestinato. Per il PD ormai Bitonci e la sua maggioranza sono messe alle strette, anche se sempre domani il sindaco ha confermato un nuovo incontro con il commissario cittadino di Forza Italia per riprendere il dialogo sui temi del programma elettorale. Bitonci sta semplicemente dando corso a quello che ha annunciato alla Gaetana, al suo piano di distruzione della città, ovvero viva chiare fino a gennaio, bisogna perdere alcuni mesi per far finta di fare qualcosa quando tutto sta fermo e poi dimettersi e gettare Padova in un caos. Grazie. Grazie.